Attilio Fontana è uno dei governatori più potenti d'Italia, anzi, posso dire che Attilio Fontana è il governatore più potente d'Italia perché è il governatore della regione Lombardia e la regione Lombardia è la regione che in Italia ha il PIL più elevato, il PIL regionale più elevato, il PIL vuol dire prodotto interno lordo, però ultimamente stampa e televisioni parlano tanto di Attilio Fontana per via di camici e di cose varie, ora non si sa bene come stanno le cose, però è saltato fuori che Attilio Fontana c'è il conto svizzera, io penso che non è un reato avere il conto svizzera, però mi chiedo ma perché Attilio Fontana i suoi soldi li ha portati in Svizzera? Ci sono tante banche italiane io per esempio Serafino Massoni i soldi non li ho in nessuna banca, ho soltanto un conto corrente postale perché la mia pensione di ex preside la tiro tramite le poste, c'è un conto corrente postale ma in banca non c'ho niente, se avessi voluto mettere dei soldini in banca mi sarei rivolto a una banca italiana non capisco perché Attilio Fontana i soldi li ha messi in Svizzera, ma perché cosa c'è in Svizzera di meglio che qua in Italia? fatemelo sapere voi, perché la questione dei camici ancora non è chiara c'è la questione che il governatore Attilio Fontana ha aperto un conto in Svizzera io mi chiedo ma come Attilio Fontana? ma tu se sei governatore della Lombardia ci avrai la tua casetta, ce l'avrai che ne so a Milano ma perché da Milano ti sei spostato fino in Svizzera per portare i soldi in banca? non li potevi mettere in Italia i soldi? non ti piacciono le banche italiane Attilio Fontana? Attilio Fontana per piacere, fammi sapere perché per i tuoi soldini non utilizzi le banche italiane ma non ti piacciono le banche italiane Attilio Fontana? beh, a te Attilio Fontana e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni